L'altra sera ero a scena con alcune persone e fra gli argomenti di conversazione c'erano ovviamente i film e le serie tv visti di recente e io ho consigliato, ho raccontato che avevo guardato Nine Perfect Strangers, una miniserie in otto episodi mi pare con Nicole Kidman che è su Amazon Prime dopo che me l'avevano consigliata, l'ho guardata e ne ho parlato con queste persone, ho raccontato loro un pochino la trama e un paio di queste persone mi hanno detto, ah ma parla di questo, io pensavo che fosse un thriller, un giallo, in realtà no, cioè c'è anche un pezzettino di thriller ma non parla di questo, la serie è ambientata in una specie di resort esclusivo che si chiama Tranquillum in cui le persone vanno per guarire, guarire nella mente, fanno una specie di terapia di riabilitazione condotta appunto da Nicole Kidman che è veramente brava in questa serie e quindi la serie parla di psichiatria e parla soprattutto di cura attraverso i funghi allucinogeni che negli Stati Uniti vengono usati effettivamente in alcuni casi come forma di terapia ecco la serie parla di questo e non saprei dirti come la persona che me l'ha consigliata, che mi ha consigliato di guardarla se è bella o brutta, ha i suoi momenti, è un tipo si direbbe se fosse una persona, però è interessante soprattutto parla di questo ecco